Dopo i momenti di grandissima tensione vissuti ieri, continua anche oggi la rimozione forzata di fioriere, gazebo e recinti realizzati dai condomini del progetto case negli spazi esterni di fronte alle loro abitazioni. Il Comune aveva deliberato lo sgombero forzato dei materiali il 30 marzo scorso con inizio esecutivo dal 4 aprile. La beffarda tempistica ha voluto che proprio il 6 aprile, anniversario da sette anni dal terremoto del 2009, gli operai del Comune abbiano iniziato a smantellare i manufatti e le recinzioni di ogni condomino. Rabbia e perplessità da parte degli abitanti del progetto case, quei recinti non davano fastidio a nessuno, dicono, i problemi sono altri. Il Comune pensasse a mettere i contatori e a fare manutenzioni visto che pochi giorni fa è crollato un altro balcone. Non solo, se proprio è ora necessario rimuovere i manufatti, perché proprio il 6 aprile, giorno della ricorrenza del terremoto? I tempi, l'arroganza e la cattiveria con la quale sono state eseguite queste operazioni. Nessuno toglie che, se bisognava togliere o liberare degli spazi comuni, ok, però così come il Comune è in grado di mandare delle raccomandate o avvertire singolarmente le persone di dover poi sgombrare dei diparti comuni, così poteva avvertire che si dovevano liberare alcuni spazi, non con un cartellino dove c'era scritto praticamente che c'erano degli spazi nei garage occupati da altre persone. Questo. Poi il 6 aprile una cosa del genere non è ammissibile. Non si capisce a chi davano fastidio. Ci sono cose più urgenti da risolvere all'Aquila. Il progetto casa è questo qui, no, ma gli altri sono tutti faticenti, sono tutti da abbattere, soldi sprecati, pagati da noi. Io ho chiesto al Comune se potevo fare così e così, tipo questo, metterlo. Sì, lo puoi fare. Poi non l'ho fatto, perché l'ho fatto in tempo. Io ce l'ho autorizzato, mi ha fatto una carta scritta. E poi hanno cambiato idea? E poi è rimasto così. Io l'avevo incominciato a fare, ma è proprio utilizzato dal Comune. Intanto, sia come sia, al progetto case di Sant'Antonio c'è chi, impugnando trapano e martello, sta provvedendo autonomamente a smontare i manufatti, anticipando il lavoro del Comune. Nuova tappa dell'Avis dell'Aquila per la raccolta del sangue. Dopo i 35 prelievi effettuati alla Guardia di Finanza martedì scorso, questa mattina i volontari hanno raccolto 35 sacche di sangue di militari della Caserma Pasquali. Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi prelievi in altri punti della città, mentre il 14 giugno, in occasione della giornata mondiale del donatore, sarà organizzato un convegno dal titolo Che fine fai il nostro sangue, per discutere sull'autoefficienza del sangue nella regione Abruzzo. Donare è importante e spesso può salvare la vita. Luciana Celeste del centro Avis dell'Aquila ci spiega come fare. Il sangue, donare sangue è molto importante, purtroppo la regione Abruzzo non è ancora autosufficiente in questo campo, ma stiamo cercando appunto di far sì che le donazioni di sangue siano sempre più abbondanti, soprattutto in Abruzzo. È importante donare sangue perché si sa, può servire purtroppo a chiunque in qualsiasi momento. Ecco, calendarizzando un po', adesso quali sono le prossime donazioni previste? Allora, innanzitutto per poter effettuare le donazioni, chiunque voglia donare sangue può recarsi all'ospedale, presso il centro rasfusionale dell'ospedale dell'Aquila, dalle 8 alle 11.30 tutti i giorni. Ovviamente la donazione è gratuita, è anonima e quindi noi siamo presenti, prima cosa, lì all'ospedale tutti i giorni e poi faremo dei banchetti, degli eventi tipo questo in giro per la città. L'Aquila ha il lavoro per preparare la prima delle ultime 5 gare di campionato da cui passerà la salvezza degli uomini di Perrone. Domenica pomeriggio si va a Prato con il ricordo nel cuore delle 309 vittime del terremoto di sette anni fa. Dopo la commemorazione del 6 aprile, anche prima del fischio d'inizio, gli uomini di Perrone ricorderanno i morti del sisma, scendendo in campo con uno striscione preparato dai familiari delle vittime. Per il rosso-blu potrebbe rappresentare un ulteriore stimolo extracalcistico per accentrare la vittoria, regalare un sorriso ai tifosi e avvicinare l'Aquila alla salvezza. Questo è il pensiero anche di uno dei protagonisti annunciati, l'esterno d'attacco o all'occorrenza fantasista Vittorio Triarico. Questo giorno per gli Aquilani è un giorno molto triste e noi siamo fortunati di giocare subito dopo tre giorni e dovremo cercare di regalare un sorriso a tutti gli Aquilani. Intanto sul fronte formazione a Prato mancherà per la squalifica il centrale difensivo Giordano Maccarrone. Il tecnico Carlo Perrone dovrebbe però confermare la 3-5-2 inserendo in difesa uno tra Sanni e Bruno nel trio davanti al portiere Scotti. Sulla fascia è probabile l'esordio di Cristian Chirieletti, fresco di tesseramento, mentre in avanti stanno salendo le quotazioni di Andrea Mancini per una maglia dal primo minuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.